primo novembre 1503 elezione di papa giulio secondo giuliano della rovere nato ad albissola in provincia di savona nel 1443 salì al soglio pontificio a 60 anni francescano creato cardinale 32 anni prima da sisto quarto suo zio divenne molto influente con l'elezione di innocenzo ottavo a lui legato da vincoli di gratitudine nonostante l'inimicizia con alessandro sesto riuscì a ottenere l'appoggio di cesare borgia e venne eletto pontifici all'unanimità alla morte di pio terzo che aveva regnato per soli 26 giorni deciso a ricostituire la potenza dello stato della chiesa si guadagnò l'appellativo di papa guerriero riconquistando perugia e bologna rivendicando rimini e faenza istituì il corpo militare della guardia svizzera preso atto che la potenza della francia avrebbe presto rappresentato il maggior pericolo s'accordo con venezia autentico principe dell'italia rinascimentale fu grande e munifico mecenate protettore di artisti come michelangelo raffaello bramante diede il via ai lavori della cappella poi detta sistina la sua natura energica rimase però il tratto più caratteristico della sua personalità e tutto il suo pontificato fu un titanico sforzo di rinsaldare la potenza anche politica dello stato della chiesa grazie a tutti